Bella ragazze e ragazze, se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente, basterà andare su Item Shop, Supporto un creatore e scrivere il nome di Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi. Buona visione! Oh mio Dio ragazzi questi passano a piagna Oh mio Dio ragazzi, il mio nome è Yuri Tzinn Regalmo Regalmo Oddio Scudini ... ... ... server e blocchi di notifica bella mira grazie perché lo fai lì o lo fai del tutto lo devi fare ma sei stronzo buona questa buona sì ma non fai questa ragazza fai calmo è solo una queen di tilt ed è stronzo fai oh oh è piaciuto il merluzzo fuori brava martiri vista tuo chat non so perché colpa di lei è stato ma era falese questa cosa guarda che non sta arrivando vincenzo non ha la puscia o state calmi c'è frate non ti si è mosso di un millimetro di città minuti e ce ne so quattordici live comunque non perdì però bravo che vincenzi grazie mille per l'osporto vuoi what up se un botto di merda rega ma che sta a fa' è godissima io con me io con me sta sabbia con me sai che calmo ricami uri zina in ecco niente stiamo chiamata vedi vedi a capire a marica mi posso spostare da peter c'è un favore sto chiede popoli the sex the game posso andare via da this the brother e prego basta non ne ho abbastanza è billee don't fuck my head no 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 che bello che bello vieni qui papà castoro mi racconti una storia vieni qui papà castoro oh cazzo e che pilla no g ma che io ho visto quanto i danni ho fatto io perchè c'ho cinque campfire cos sono stato in ansia per serbusson adesso tutto qua non vuost la ledia si è Sì, sì. oh che figli furtiniti 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 forco due oh come direbbe yuri forco due 209 wait are you fucking kidding me i 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